Raccontiamo questo venerdì di vigilia di Alessandro Gacomo. Stiamo preparando bene la partita perché loro sono una squadra molto organizzata, molto forte, sta facendo bene e noi soprattutto in questo momento che le cose stanno andando bene bisogna cercare di stare ancora più concentrati. Allora Simone, che due mesi di lavoro sono quelli che sono passati dall'inizio del ritiro? Per te ti senti cresciuto, migliorato, senti di avere qualcosa in più da dare? Sì, io ho iniziato dal ritiro con la mentalità giusta, cercare di dare il massimo per questa squadra perché rappresentare un obiettivo importante, quello che purtroppo non ci è riuscito l'anno scorso. Sono stati due mesi intensi, continueranno a esserli perché il lavoro da fare comunque è tanto perché le partite sono ancora molte e niente, per ora tutto funziona correttamente.